Ultimo giorno di carnevale a Capolona, martedì grasso e la cuccagna. Come il solito, come finalmente dopo due anni di stop, c'è di nuovo la cuccagna in piazza a Capolona, ci sono tanti bambini, tanta gente, pasta asciutta gratis e panino con la salsiccia. Noi come amministrazione insieme alla Proloquo e tutte le altre associazioni, l'Associazione del Carnevale, che è un gruppo di persone che da anni oramai porta avanti questa manifestazione, abbiamo assolutamente voluto riprendere dopo questo stop forzato e siamo felici di aver trovato risposta appunto con chi collabora. Altrettanta risposta l'abbiamo trovata dalla gente, sono le 5, e normalmente il grosso tra le 6, 6 e mezzo, 7 avremo sicuramente una piazza piena. Lo è già adesso, tanti bambini che giocano, che si divertono, il martedì grasso a Capolona. Grazie, grazie a tutti, alla partecipazione, a chi ha collaborato da parte dell'amministrazione comunale. Canarì, tu non riesci mai da casa perché mai te va a nascere. Canarì, tu non riesci mai da casa perché mai te va a nascere. Canarì, tu non riesci mai da casa perché mai te va a nascere. Allora, oggi siamo qui a Capolona, ormai è una tradizione cinquantennale, anche di più, e chiediamo sempre a chi partecipa, pasta asciutta, salsiccia e vino e un pochino d'acqua per i bambini. Abbiamo avuto tanta fortuna perché tutto questo tempo non ha mai piovuto, noi abbiamo avuto sempre il tempo buono, siamo riusciti a fare sempre la nostra festa. È una piccola festa però siamo contenti così, siamo un piccolo paese e non riusciamo ad avere tante cose. Canarì, e si trova a porta chiusa sai che faccia per il trasì. Canarì, 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 Qu Lakeshino Canarì, 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 Ugana! 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 Ugana Grazie a tutti.